Ciao a tutti, eccoci qua col tabellone della Coppa Italia 24-25, ebbene sì, ebbene sì, così andiamo a studiarci già le prime sfide che ci saranno il 3 e il 4 agosto, quindi si inizia a fare sul serio tra una decina di giorni, come state spero tutto bene, mi sono preso un pochino di pausa come avrete notato, ero in ferie e non c'era tanto da che da dire, tanto ragazzi le notizie del mercato sono sempre identiche, sono sempre le stesse, a parte quello di B, che mi aspettavo andasse un po' meglio, indi per cui ho detto, ascolta, sai che loro fanno le fere e le faccio anch'io, loro nel senso i miei utenti, e quindi eccomi qua col tabellone appunto di Coppa Italia, dove appunto avremo squadre di A, di B, di C, indi per cui è un contenuto che ci sta più che bene in questo canale, l'anno scorso andò molto bene, speriamo che anche quest'anno vada bene. Allora ragazzi, come sempre invito a iscriveretevi al teatro prima, metti un piaccio e commentare, questo è un video che parlo di calcio, appunto, serie A, serie B, calcio internazionale, nazionale, bla bla, calcio mercato, bla bla bla, e lo sapete già, dai, non vi costa nulla, mi raccomando, un like, un'iscrizione al canale è il modo per supportarmi, anche un commento, ma davvero ci mettete due secondi a lasciare un like, vi chiedo questo favore in cambio, allora, del caldo che sto subendo. Allora, andiamo. Allora, quest'anno ci sarà da dire che c'è il Napoli che parte subito, il 10 agosto, il Napoli che non è testa di serie e sarà veramente interessante vedere quanto andrà avanti, andiamo a vedere un po' tutto con ovviamente le altre big che entreranno in gioco da dicembre, lo sapete, io sono contrario a questa formula del Coppa Italia, a me piace più stile FA Cup, comunque con squadre anche più piccole, le big non dico subito, ma almeno a ottobre, ecco, neanche a dicembre, e lo dico da Atalantino, quindi mi farebbe piacere veramente tornasse la Coppa Italia di un tempo, ma tanto rimarrà utopia. Allora, appunto, le altre entreranno in gioco da dicembre, la Lazio e il Napoli sono dalla parte dell'Inter, per la Juve possibili quarti con la Fiorentina o il Toro, poi c'è anche l'Atalanta in quella parte lì, e la Roma è sul cammino del Milan. Ma andiamo appunto a vedere un po' tutto quanto, la solita storia, il meccanismo della stessa stagione, invariato purtroppo anche nel 2026-27, 2027-28, quindi questo capite perché vi dicevo così prima, il tabellone è formato da 40 club preceduto da un turno di qualificazione preliminare che consentirà di completare all'organico delle partecipanti, che in totale sono 44, quindi dopo si snelliranno a 40. Ma ve le dico tutte appunto, le scritte d'ufficio sono tutte le società di A e B più 4 dalla C, e anche qui, ripeto, torniamo sempre lì, che io la C la metterei tutta, e più qualcuna della D, pensate un po', come era una volta. Tutti i turni di eliminazione diretta, turno preliminare, 32esimi, 16esimi, 8esimi, 14esimi, semifinale, finale, avete capito bene, tutti i turni di eliminazione diretta, tutti, tutti, ok? Questo si fa per far fare un po' meno partite, classico, tabellone, stile tannistico, posti dall'1 al 44, le squadre entrano nella competizione in tre momenti successivi, quindi 8 a partire dal turno preliminare, 28 a partire dai 32esimi, 8 teste di serie, come vi dicevo prima, che partono dagli ottavi di finale in dicembre. La formula dei suddetti gruppi avviene sulla base di un ranking sportivo. Poi, vabbè, l'ordine del ranking non ve lo sto a dire, ragazzi, comunque ci sono le promosse in B, le vincitrici del pre-off di C, ovviamente la detentrice del trofeo, bla bla bla, chi è arrivato in finale, le seconde classificate nel girone di C, la vincitrice di Coppa Italia di serie C, ok? Le teste di serie sono 8, Juve, Inter, Milan, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina, ovviamente in questo ordine qui, ok? Andiamo, poi sì, come vi dicevo prima, ci sono i possibili incroci nei quarti che, appunto, dovrebbero essere, poi sempre se non vengono smentiti come spesso accade, la parte sinistra del tabellone, Juve, Fiorentina e Atalanta, Bologna, due di queste quattro si sfiderebbero poi in semifinale, e parte destra del tabellone, Milan, Roma e Inter, Lazio o Napoli. Possibile quindi un derby milanese o romano in semifinale. Andiamo, perché veramente, sennò qui è finita. Allora, si parte dal turno preliminare, turno preliminare che vede il 3 agosto in campo Carrarese e Catania, che se non erro in Catania è la vincitrice della Coppa Italia di serie C, se ho detto una castroneria, cazziatemi nei commenti, ma comunque. Il 3 agosto, ore 18, Carrarese e Catania. Sarà tutto nelle reti media, se non sbaglio, quindi visibile. Torres-Mantova, forse non questo turno qui, ma da quello dopo sì. Torres-Mantova, il 3 agosto, ore 20.30. Cesena-Padova, 4 agosto, ore 20.30. Juve-Stabia-Vellino, data e orario ancora da definire. Si gioca a Chiavari, non so quale. Ah, la Carrarese, ok. Poi, i trentaduesimi saranno Cagliari contro la vincente di Carrarese e Catania, lunedì 12 agosto, ore 21.15. Poi, Cremonese-Bari, sabato 10 agosto, ore 19. Le vincenti si affronteranno ai sedicesimi, chi passa agli ottavi, appunto, troverà la Fiorentina. Sempre i trentaduesimi, c'è Monza-Sut-Tirol, venerdì 9 agosto, alle 21.15. Brescia-Venezia, domenica 11 agosto, ore 19. Le vincenti di queste qui si affronteranno ai sedicesimi e chi passa agli ottavi trova il Bologna, ok? Così ve le dico un po' tutte. Sempre i trentaduesimi, ovviamente, quando non vi lo dico più, vi dico i sedicesimi, se no qui facciamo veramente mattina. Frosinone-Pisa, lunedì 12 agosto, ore 18.00. Interessante questo Frosinone-Pisa, molto, come partita dei trentaduesimi. Poi c'è il Verona contro la vincente di Cesena-Padoa, quindi potrebbe esserci anche un derby Verona-Padoa, ma penso passerà al Cesena. Sabato 10 agosto, ore 18.30. Le vincenti, appunto, si affronteranno ai sedicesimi e chi passa trova gli ottavi. L'Atalanta, quindi, l'Atalanta potrebbe trovare una di queste quattro squadre, qui, cinque, visto che c'è Cesena-Padoa. Quindi Frosinone-Pisa, Verona o le vincente tra Cesena-Padoa. Non tifo Cesena, lo sapete bene, ma se trovassi un'Atalanta-Cesena non mi dispiacerebbe, ma la vedo un po' dura. Poi, trentaduesimi, Lecce contro la vincente, sempre attento, continuo a dirlo, Lecce contro la vincente di Torres-Mantua, lunedì 12 agosto, ore 18.30. Poi c'è Sassuolo-Cittadella, venerdì 9 agosto, ore 18.00. Le vincenti si affronteranno ai sedicesimi e chi passa agli ottavi trova il Milan. Poi c'è Genoa-Reggiana, il 9 agosto alle 8.45. Sampdoria-Como, molto interessante anche questo Sampdoria-Como. Domenica 11 agosto, ore 20.45. Le vincenti si affronteranno appunto ai sedicesimi e chi passa trova gli ottavi la Roma. Poi ancora trentaduesimi, Napoli-Modena, sabato 10 agosto, ore 21.15. Quindi vedete subito il Napoli in campo il 10 agosto, come vi avevo detto. È un bellino, bellino, molto interessante. Parma-Palermo, domenica 11 agosto, ore 18.30. Qui le vincenti si affronteranno appunto anche loro ai sedicesimi. Chi passa trova gli ottavi la Lazio. Salernita-Naspezia, lunedì 12 agosto, ore 20.45. Poi c'è l'Udinese contro la vincente della partita, turno preliminare, Juve-Stabia-Avellino, che sarà appunto il 9 agosto, ore 19.30. Questa qui dell'Udinese. Le vincenti si affronteranno ai sedicesimi, chi passa trova l'Inter. Difficile, eh? Il calendario del... Eh vabbè, non mi fate polemizzare subito. Poi, no supplementari dal turno preliminare ai quarti. Ok? Quindi si va direttamente a rigore, credo. Una delle principali novità, tutte le partite sono in gara unica, con rigori, senza supplementare, in caso di pareggio, nei 90 minuti. Dal turno preliminare ai quarti. Quindi capite bene. Dopo, forse, dai quarti in poi, credo e suppongo, finalmente ci sarà l'andata e ritorno. Quindi è diverso da quello che vi dicevo prima. Le semifinali restano in gara di andata e ritorno, ma con eventuali supplementari e rigori, in caso di parità. Ok? Quindi no supplementari dal turno preliminare ai quarti. Dopo ci sarà, appunto, andata e ritorno in semifinali. Eh, eh, meno male. Con eventuali appunto supplementari e rigori in caso di parità. La finale resta in gara unica, quindi le uniche partite andate e ritorno saranno le semifinali. Mi correggo di quanto detto prima. Con appunto eventuali supplementari e rigori in caso di parità. Poi, eh, niente, dopo lì non c'è nient'altro. E andiamo a vedere gli altri accoppiamenti. Che, comunque, vi ho già detto tutto, perché praticamente vi ho detto poi con chi si affrontano, eh, eventuali agli ottavi. Poi, ovviamente, supponendo il tutto, ai quarti potrebbe essere un Juve-Fiorentina. Eh, vado a supposizioni, eh. Eh, di qua c'è un Bologna-Atalanta, quindi potrebbe esserci Bologna-Atalanta e quarti di finale. La vincente andrà in semifinale. Quindi, ipotetica, potrebbe essere uno Juve-Atalanta, per dire, in semifinale. O un Fiorentina-Bologna, insomma, quelle quattro lì. Dall'altra parte, invece, gli ottavi potrebbero vedere un... scusatemi, quarti, un Milan-Roma e un Lazio-Inter. La vincente poi andrà in semifinale, quindi potrebbe essere semifinale, che ne so, Milan-Inter e di qua, appunto, oppure un Roma-Lazio, ecco, per dire in semifinale, poi ovviamente la finale. Quindi questo ci tenevo a dirvelo in quanto cronaca, perché poi qui è tutta una supposizione di quello che può succedere negli incroci. Giustamente, vi ho detto quelle più importanti, poi dopo, dagli ottavi in poi, è una roulette. Ovviamente le favorite sono le big, ma tutto può essere. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo tabellone di Coppa Italia. Penso e spero che in tanti di voi siano contrari a questa Coppa Italia, come è fatta e lavorrebbero al vecchio stile. Vi abbraccio veramente di cuore, vi auguro un buon proseguimento d'estate. Si torna a lavorare per me da domani, quindi con calma. Ma torneranno anche tutti i video, non vi preoccupate anche di calcio e mercato, appena c'è qualcosa di nuovo, perché ragazzi, veramente, sono cinque giorni che girano le stesse notizie. Se voi andate a vedere il mio video di calcio e mercato di serie A e B, sono più o meno le notizie che girano adesso. Quello di serie B è vero, sono uscite un po' di cose, quindi andatelo a vedere, andatelo a recuperare, tanti like, perché non ne ha tanti, tanti like, tante view, e giuro che vi porto un nuovo video di calcio e mercato di serie B al più presto possibile, perché lì delle cosine da dire, ce ne sarebbero tante. Ciao, a presto, vi abbraccio il vostro monte. Mi raccomando, tanti like, tanti commenti, iscrivetevi al canale, è tutto gratis, è il vostro supporto a me che sto subendo questo caldo. Vi abbraccio, a presto.